Ciao a tutti, in questo video qualche parola su uno degli aspetti più importanti della filosofia di Epicuro di Samo. Sto parlando del tetrafarmacon, letteralmente le quattro medicine. Epicuro nacque nel 341 a.C. a Samo, iniziò a fare filosofia da giovane, poi fondò ad Atene una scuola filosofica. I suoi seguaci erano chiamati i filosofi del giardino proprio perché la scuola sorgeva vicino a un giardino e la scuola epicurea era anche un'associazione di tipo religioso, un po' come la scuola di Pitagora. Epicuro aveva un'autorità immensa, grandissima, c'era un detto tra i suoi discepoli. Comportati come se Epicuro ti vedesse, perché lui veniva considerato quasi come una divinità e dopo la sua morte nessuno dei suoi seguaci osò modificare, cambiare qualcosa delle sue teorie, del suo pensiero, proprio perché la parola di Epicuro era insindacabile. Quello che lui aveva detto non doveva non doveva essere contrastato è messo in discussione. Per il nostro filosofo la filosofia è la strada maestra e la corsia preferenziale per poter fare arrivare l'uomo alla felicità, una visione molto strumentale della filosofia. La filosofia è una sorta di medicina dell'anima che quindi può dare questo contributo, può dare un aiuto all'uomo per arrivare alla felicità. In fin dei conti il dilemma di tutti i tempi, di ogni uomo, cos'è la felicità, come poter arrivare alla felicità, ancora di più come essere felici in un mondo dove spesso siamo circondati da ingiustizie, cattiverie, sofferenze, sopraffazioni. Qual è la ricetta proposta dal nostro amico? Il tetrafarmacon, cioè le quattro medicine. Quattro medicine per contrastare i quattro, secondo Epicuro, i quattro grandi mali che rendono difficile e infelice la vita degli uomini. Primo male, la paura degli dèi. Qual è la medicina? Non dobbiamo, secondo Epicuro, avere assolutamente paura, l'uomo non deve avere paura degli dèi perché gli dèi non si interessano delle vicende umane. Secondo male, la paura della morte. Secondo Epicuro, l'uomo non deve avere paura della morte perché quando c'è la morte non ci siamo noi, viceversa, se ci siamo noi non c'è la morte. Detta così può sembrare, e sicuramente lo è un po', un discorso un po' troppo riduttivo, semplice perché magari forse Epicuro non ha tenuto in considerazione che l'uomo non teme tanto la morte, più che altro ha paura del morire, cioè di questo passaggio dalla vita alla morte, da che ci siamo a che non ci siamo più. Terza medicina, il piacere. Il piacere è accessibile a tutti, tutti possono arrivare al piacere, poi vedremo come lui intenderà il piacere. Poi, quarto male, il dolore. Ecco, una cosa che ha sempre, diciamo, causato tanti pensieri a ogni uomo, come affrontare il dolore, la sofferenza. Secondo Epicuro, il dolore, se lieve, lo possiamo sopportare, quindi non ci altera, non ci cambia la vita più di tanto. Se è acuto, è un dolore che presto ci porterà alla morte, e quindi con la morte finisce tutto. Anche qui forse un discorso un po' troppo semplice, perché non sempre il dolore acuto conduce in breve tempo alla morte, anzi per esperienza sappiamo tutti, chi più chi meno, abbiamo conosciuto delle persone che sono arrivate sia alla morte, ma dopo anni e anni di sofferenze, alle volte anche che atroci. Comunque, questo è il pensiero di Epicuro, i quattro mali che rendono infelice l'uomo, le quattro medicine per affrontare appunto questi mali, queste che poi sono anche in fin dei conti delle paure, la paura del dolore, la paura della morte. Quindi l'etica di Epicuro è un'etica rivolta che va verso la felicità, l'obiettivo è arrivare a questa felicità. E possiamo fare un'equazione, felicità uguale piacere, cioè l'uomo col piacere può arrivare a questa felicità, ma lui come intendeva il piacere? Secondo il nostro filosofo ci sono due tipi di piacere, c'è il piacere cinetico, detto anche in movimento, che consiste nella gioia, la felicità, la letizia, magari quando uno è allegro. E poi c'è il piacere stabile o catastematico, che consiste invece nell'assenza del dolore. Secondo Epicuro, quest'ultimo piacere, quindi il piacere stabile, catastematico, che consiste nell'assenza di dolore è l'unico piacere in grado di portarci alla felicità. E in che cosa consiste questo piacere? Consiste nell'aponia, che è l'assenza del dolore fisico, e nell'imperturbabilità dell'anima, cioè dire quando la nostra anima, quando la nostra mente, quando la nostra anima è nella pace, nella serenità, quindi libera da tutti i turbamenti, dalle passioni vane, dalle angosce, dalle preoccupazioni, dalle tante paure reali, ma spesso anche immaginarie, perché dobbiamo ammettere che tante volte ci costruiamo noi delle paure inutili, che non hanno assurde, che non hanno nessun contatto poi con la vita reale, con la realtà. E detto allora in maniera semplice, Epicuro ci dice, tu uomo vuoi essere davvero felice? Allora, devi puntare su queste due cose, l'aponia, l'assenza del dolore fisico, e l'imperturbabilità, la tarassia, cioè non avere pensieri per la testa, avere la pace dell'anima. Se tu raggiungi queste due cose, puoi definirti una persona felice. Quindi anche nella società di oggi, dove noi siamo pieni da due miliardi di preoccupazioni, dove spesso ci affanniamo per avere di più, non siamo mai contenti di nulla, Epicuro ci direbbe, state semplicemente sprecando la vostra vita, state perdendo di tempo. Se state bene fisicamente e non avete dolori, e se avete la mente in pace e serena, voi siete delle persone felici e magari non bene state neppure rendendo conto. Anche perché per Epicuro il piacere non significa l'egoismo, come ho detto prima, soddisfare tutti i capricci che ci passano nella mente, l'avere sempre di più, anche perché poi l'uomo è questo da sempre, per avere di più, per l'ingordigia, spesso ha anche dato grandi comitate agli altri, la sopraffazione, l'ingiustizia, invece per Epicuro non è assolutamente così, anzi il piacere cammina, va di pari passo con la virtù. Lui infatti scrive che non è possibile vivere nel piacere senza vivere in modo saggio, buono, giusto, quindi il piacere coincide quindi con la bontà, con la saggezza. Però a questo punto una domanda che vale a maggior ragione per noi nel 2023, ma anche per gli uomini del suo tempo, come dobbiamo rapportarci ai bisogni della vita? Perché poi la vita è fatta anche di bisogni, che devono essere soddisfatti di bisogni primari e fondamentali, di bisogni invece che hanno un'importanza anche nettamente minore. Allora Epicuro fa anche da questo punto di vista una distinzione ben precisa, cioè ci sono i bisogni naturali e necessari. Secondo posto naturali e non necessari, al terzo posto i non naturali e i non necessari. Allora i bisogni naturali e necessari devono essere soddisfatti, sono gli unici che devono essere sempre soddisfatti, perché sono le cose fondamentali della vita, mangiare, bere, dormire, l'ABC, questi bisogni devono essere soddisfatti. Poi ci sono i bisogni naturali e non necessari, quindi qualche abuso anche nel mangiare, qualche vizio, i capricci, Epicuro dice no, questi bisogni non devono essere soddisfatti o almeno devono essere ridotti al minimo, minimo, minimo sindacale. Poi ci sono i bisogni non naturali e non necessari, quindi la ricerca della gloria terrena, gli onori, gli applausi, il potere, essere apprezzati da tutti, oggi potremmo dire avere 2000 like su Instagram e Epicuro dice no, no, assolutamente no, questi bisogni devono essere messi totalmente da parte, perché poi alla lunga non rendono l'uomo felice e non lo possono rendere felice, perché lui parlava di imperturbabilità dell'anima, la tarassia, quindi la pace mentale, come può essere in fin dei conti poi un uomo in pace nella mente e nell'anima se vuole la gloria terrena, se vuole gli applausi, se vuole essere ammirato e stimato da tutti. Chiaramente queste cose alla lunga creano ansie, preoccupazioni, nervosismo, quindi Epicuro direbbe oggi state sbagliando completamente strada. Il suo motto tra l'altro era vivi nascosto e questo andava in contraddizione, era un po' una rivoluzione rispetto a quella che era la mentalità greca dell'epoca, la vita, vivere in società, la polis, la vita democratica, partecipare quindi alla vita civile, politica. Epicuro assolutamente vivi nascosto, lui diceva soprattutto tenersi alla larga dalla politica, perché una persona che vuole vivere in pace, che vuole avere l'anima serena e tranquilla, se va a fare politica chiaramente si nervosisce, i contrasti con gli altri, la competizione, io propongo una cosa ma vengo contraddetto, vengo contrastato, quindi la prima cosa per essere, che deve fare lì saggio Epicureo, deve vivere nascosto, deve starsene in disparte, un po' come il nonno di Heidi, ma anche lì poi c'era Heidi che un po' scocciava, quindi deve starsene abbastanza tranquillo e deve tenersi soprattutto lontano dalla vita politica, perché la vita politica crea ambizioni, contrasti, antagonismi e quindi questo andava sicuramente in contrasto con quella che era la mentalità, con quella che era la vita della polis, che invece era fatta di dibattiti, di democrazia, di confronto. Il nostro filosofo esaltava anche il ruolo dell'amicizia, però questo potrebbe anche sembrare un po' in contrasto con il suo pensiero, e perché? Perché raggiungere la pace dell'anima, la tarassia, significa anche un po', e questo come i filosofi vivere anche una vita disumana, quindi senza empatia, senza emozioni, essere indifferenti ai bisogni degli altri, quindi come, perché Epicureo esaltava l'amicizia e poi lui comunque predicava la tarassia. Per Epicureo l'amicizia innanzitutto è un bene in sé, e poi si basa anche sull'utile, e questo lo sappiamo tutti, perché comunque ancora oggi amicizia significa che io so che una persona che mi vuole bene, che mia amica, me la trovo utile, che mi può dare un aiuto nel momento del bisogno. Però l'amicizia è tutto, almeno quella vera, è tutto tranne che indifferenza, è tutto tranne che mancanza di emozioni, l'amicizia invece è coinvolgimento, partecipazione, premura. Se io sono amico di una persona, se quella persona ha un problema, sta male, anche io mi sento coinvolto, anche io mi preoccupo, anche io magari mi innervosisco, anche io divento triste. Allora, come conciliare le due cose? Cioè, la tarassia, vivere quindi senza coinvolgimento, senza emozioni, con l'amicizia. Epicureo dice che la vera amicizia è possibile soltanto tra i saggi, cioè tra queste persone che sono riuscite a trovare questa imperturbabilità, questa pace. Verrebbe un po' da dire possibile soltanto tra persone un po' disumane, perché se due sono riusciti, riescono a vivere appunto in questa apatia, in questa indifferenza, mettendo da parte tutte le loro emozioni, vabbè, allora tra di loro sono fatti della stessa pasta e possono magari essere amici. Però tra i poveri comuni mortali magari non funziona così, perché se uno è amico di un altro, per forza di cose devi provare, hai delle attenzioni nei suoi confronti, c'è un coinvolgimento emotivo e quindi questo comporta in molti casi, altera anche il nostro equilibrio mentale, la nostra pace, perché ci preoccupiamo, soffriamo insieme ai nostri amici, siamo felici anche dei loro successi. Quindi come l'epicureismo, magari come ogni filosofia, può essere preso a piccole dosi. Quella dei bisogni, ad esempio, di soddisfare i bisogni naturali e necessari, può essere utile nel mondo di oggi, cioè in una società dove tutti vogliamo sempre di più, dove non siamo mai contenti di nulla, dove più abbiamo e più vogliamo avere e spesso per avere questo di più non dormiamo tranquilli la notte, siamo nervosi, siamo irascibili o magari diamo, ecco, gomitate anche agli altri. Ecco, l'invito di Epicuro sicuramente utile, come dire, vivete basando, mettendo al centro di tutto le cose principali, le cose fondamentali della vita. Certo, la tarassia, cioè non provare queste emozioni e vivere nell'indifferenza è sicuramente anche una cosa pericolosa, perché un conto è cercare di raggiungere la pace, però sentendosi anche partecipi dei bisogni degli altri, un conto è disumanizzarsi, provare indifferenza e tra l'altro in un mondo dove già c'è fin troppa indifferenza, dove c'è fin troppo egoismo, dove spesso non ci rendiamo, non ci accorgiamo dei bisogni anche minimi delle persone che ci stanno accanto di tutto, ecco, avrebbe da dire abbiamo bisogno tranne che di vivere isolati, perché poi l'issaggio Epicureo è come una specie di uomo isola, come un uomo che si isola dal mondo per raggiungere questa serenità, serenità che però ha un prezzo, il prezzo dell'indifferenza, il prezzo della mancanza di emozioni. Ecco, Epicuro diceva vivi nascosto, cioè ritirati, tieniti lontano anche dalla vita attiva, dalla vita sociale e questo sicuramente ha dei tratti di forte disumanità. Va bene, alla prossima e ciao!